l'1 a 1 tra caserano e grevina non accontenta nessuno delle due contendenti ma serve quanto meno a muovere la classifica e se i rossazzurri però scivolano a meno 8 dal duo di testa bitonto foggia il grevina tiene botta nella lotta salvezza portando il vantaggio sui play out a più 4 lo speculare 3 5 2 da vita una gara combattuta e mai scontata il caserano alla palla del vantaggio il tredicesimo versienti lancia in profondità verso mincica finta per rescio ingresso in area e suggerimento per lo stesso mincica il cui diagonale non inquadra la porta il fantasista si rifà due minuti dopo foggia strappa alla difesa avversaria un sanguinoso pallone al limite dell'area accanto a russo che all'area per mincica questa volta il bomber caseranese è freddo e piazza il pallone alla sinistra di vicino al venticinquesimo sulla punizione dell'ottimo alvarez il gravina va vicino al pari perché il pallone arriva silletti che coglie in pieno il palo a guarnieri battuto silletti ci riprova al quarantaduesimo dalla distanza con il pallone che si abbassa ma non a sufficienza nella ripresa il caserano inizia meglio e sfiora il raddoppio al quarto russo recupera un bel pallone sul rilancio di vicino mincica chiede e ottiene il pallone ma l'estremo difensore ospite rimedia l'errore e neutralizza la botta del numero 10 salentino il gravine più intrependente il caserano si fa più attendista ma poi non ha la forza di ripartire come sarebbe opportuno al sedicesimo al varez scorge capitano chiaradia che di sinistro impegna guarnieri che si ripete 40 secondi dopo sempre sul medesimo avversario la replica caseranese arriva al ventinovesimo sull'assist di versienti per foggia che mette alto sulla traversa lo seto getta nella mischia ficara che manca il pareggio al trentaduesimo perché guarnieri respinge con i piedi poi al quarantacinquesimo il neo entrato indovina su punizione il jolly con l'involontaria collaborazione di foggia che sfiora la palla di quel tanto che basta per spiazzare l'incolpevole guarnieri